se stai seguendo uomini e donne ti interesserà sapere che una nuova coppia sta per nascere nella puntata del 15 maggio maria de filippi sembra aver raggiunto un obiettivo importante con due dei protagonisti del parterre che potrebbero essersi innamorati davvero in particolare l'uomo in questione ha preso una decisione fondamentale che fa presagire la formazione di questa nuova coppia dopo aver iniziato il suo percorso televisivo con un'altra dama ora ha chiarito le sue idee e punta solo su una persona si tratta del cavaliere mario verona che ha deciso di eliminare due ragazze che lo corteggiavano per continuare la sua conoscenza solo con milena parisi quindi mario e milena potrebbero presto lasciare il programma insieme e iniziare una relazione è interessante notare come le dinamiche del dating show possano portare alla nascita di storie d'amore genuine e sincere manca davvero poco alla fine di uomini e donne quindi non dovremo aspettare molto per scoprire la scelta definitiva di mario e milena potrebbero decidere di vivere la loro storia lontano dai riflettori dando spazio alla loro relazione al di fuori del contesto televisivo se sei un fan del programma non puoi perderti l'evoluzione di questa nuova coppia che ha catturato l'attenzione di tutti gli spettatori resta sintonizzato per scoprire come si evolverà questa storia d'amore nata a uomini e donne